popolo umbro d'espello e de tutta la regione prestate l'attenzione a quel che vada di cesare flavio costantino massimo germanico vincitore trionfatore nonché per vostro imperatore volemo essere sensibili con le popolazioni che tutti possano gode le meglio condizioni che godano le città le province e le regioni perché noi, noi Flavia Gens, noi semo li migliori visto che vuoi d'espello con i tusci siete compari e tutti l'anni ce fate gli ludiscenici e gladiatori e la tradizione vi dice che polsenave sia dei cornice lì sulle rive del lago per sacerdote vostro c'è andato e visto che per arrivarci e le chilometri non so pochi tra le montagne e i boschi che de notte so aspri e cupi giocate a casa vostra ogni gioco e qualsiasi giostra lì sotto ali muraglioni che non ve rompemo li coglioni flavia costanza le rinominamo sto splendidissimo paese e un tempio alla stirpe nostra ve lo facemo a nostre spese e lì tutta l'Umbria possa celebra ogni qualsiasi giostra ma senza sangue e superstizioni che cesari girano li coglioni a Spello come a Bolzena gente mo fateve le feste noi Gens Flavia vedete che noi onoramo le richieste e che tutti possano gode le migliori condizioni che godano le città le province e le regioni godano tutti i popoli e buona regola ve lo rischià di mannà l'impero a rotoli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti